Monticello Conteotto, uno spacciatore nordafricano di 27 anni senza fissa dimora, è stato arrestato dagli agenti di polizia locale nord-est Vicentino che lo hanno bloccato dopo un'energica collutazione. I poliziotti che in borghese avevano seguito gli spostamenti sospetti dell'uomo che viaggiava su una bicicletta elettrica risultata poi rubata, lo avevano già notato nei pressi della pista ciclabile di via Caselle, sospetti confermati dopo la perquisizione personale. I 27 anni nascondevano negli slip 35 involucri di cocaina, 16 di eroina, 3 grammi di marihuana e oltre 100 euro a provento dello spaccio. Questa mattina il giudice del Tribunale di Vicenza ha confermato l'arresto per detenzione e fine di spaccio di stupefacenti e ricettazione, disponendo la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia.